Buongiorno a tutti, ho pensato che fosse utile anche inerente al mio canale, dato che comunque sia in origine è nato come canale incentrato sul beauty, sul make up e lo è tuttora. Il mio problema è solo che diciamo che ho altre priorità, tante cose sono cambiate. La clip che adesso andrete a vedere è praticamente tutto quello che io faccio la mattina per rendermi presentabile e questo qui è il trucco finale. Come potete vedere è super semplice, cioè davvero. Io vi mostro anche tutti i prodotti e alla fine del trucco vi parlo un attimino anche dei prodotti che vado ad utilizzare. Ho deciso di impostare questo video così, però il fulcro del video non è tanto i prodotti che vi voglio far vedere, ma per me è importantissimo adesso il tempo. Più veloce sono meglio è. Diciamo che questa tipologia qui di trucco mi impiega veramente pochissimo tempo, la mattina a massimo 5-6 minuti. Piccolo disclaimer per non creare casini o cose del genere, sono anche la ragazza che va in giro senza trucco assolutissimamente, però se ho tempo e posso ritagliarmi del tempo mi piace. Mi piace insomma rendermi presentabile e sono così agli esami, sono così a lezione soprattutto perché in questo periodo ho lezione, dato che ho comunque pochissimo tempo questo è il massimo che faccio. Voi all'interno del video e comunque adesso mi vedete anche senza eyeliner, quando ho un po' più di tempo magari l'eyeliner me lo metto anche oppure mi metto semplicemente un ombretto marroncino. Non sono nemmeno più una che ama quando truccarsi quegli ombrettini o cose del genere. Mi piace però la sera, cioè per andare a lezione no, sinceramente. Niente, spero che appunto questo video vi possa essere di istirazione. Fatemi sapere se anche voi magari dedicate 5-6 minuti la mattina per truccarvi oppure magari andate a lezione semplicemente senza trucco. Vi lascio al video e ci vediamo sicuramente dopo così vi parlo un pochettino dei prodotti. Grazie a tutti. 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 tinta, ma cioè nel senso io ho questi due stick qua, uno che sono entrambi difenti, uno è un pennellino e questo che è lo stick quello più scuro, insomma fa parte di un trio sia di una specie di correttore e di un highlighter e mi ci trovo veramente tanto bene e penso che dia tantissima definizione al mio viso, io comunque sia tendo ad avere il viso abbastanza tondino quindi il fatto che io vada a scolpire leggermente qua mi ci trovo da dio, penso che questi due insieme siano i miei prodotti preferiti della mia make up routine, questo qui era un pennello che non mi ricordo se mi era stendiato o me l'ero comprato, ma in uno di quei siti cinesi, però mi piace perché è abbastanza morbidiccio, peccato che sia un po' rotto però vabbè, quello che riesco quello che riesco ad aggrappare è questo quindi vabbè in questo periodo sto utilizzando questo sto utilizzando questa perché la sto testando ed è appunto la brow contour pro di benefit, io le sopracciglia sto facendo da me, penso di averle tenute abbastanza al naturale insomma, ho finito il gel di benefit quindi sto utilizzando questo qui di Flormar ma mi ci trovo abbastanza bene anche se secondo me a volte è un po' troppo il prodotto e quindi tende a fare un po' la patina bianca sulle sopracciglia invece questo brow contour pro mi piace tantissimo solo che io non ho tempo la mattina di utilizzare tutti i vari pennini insomma, utilizzo solamente questo qua più chiaro perché io riempio qua leggermente allungo leggermente qua i lati basta, questo è quello che faccio altro step importantissimo che durante gli anni ho veramente dato tanta importanza sono le labbra, davvero che sia di giorno che sia di sera utilizzo sempre le stesse cose ultimamente e mi ci sto davvero trovando benissimo è super economico, faccio la combo di questi due uno è questa qui, è una matita automatica della Flormar, cioè non c'è un nome c'è il numero SL08 che è di questo colore malva rosino insomma, e questo invece è, mamma mia ragazzi questo lo adoro, ed è appunto il numero 121 di Kiko ed è una tinta non uso la parte lucida, solo se magari ho le labbra proprio super disidratate un altro step, importantissimo a mio parere sono le sopra e le... sono le ciglia io sto cercando di finire tutti i mascara che ho io se non li finisco impazzisco, anche perché poi mi ritrovo con 3000 prodotti tutti nezzi aperti questo è quasi finito ed è praticamente il Total Temptation di Maybelline però è la versione waterproof che io utilizzavo anche quest'estate quindi sta quasi finendo sto anche cercando di finire il Lush Base che è appunto questa base di essence super economico niente, ho cercato anche di parlare un attimino anche dei prodotti e non solamente di mostrarveli questi video qua vengono realizzati dove non c'è sponsoring non è che non sono obbligata a nessuno mi paga quindi non sono costretta a mettere hashtag advertising in giro sono semplicemente alcuni prodotti, non tutti perché alcuni sono stati acquistati da me e altri mi sono stati regalati da parenti sono semplicemente invii gratuiti ecco, ci tenevo a dire questo perché questi sono i prodotti che io effettivamente sto utilizzando tutti i giorni se voi mi seguite nei miei weekly vlog c'è stato, non ricordo quale settimana in cui vi ho mostrato effettivamente i prodotti che utilizzo non me li avete mai visti applicati mi mancava tantissimo realizzare video così a dir la verità insomma, mi sento molto sempre un po' in basso e fatemi sapere se voi vi truccate che prodotti utilizzate se magari conoscete alcuni prodotti perché io non è che sia così tanto aggiornata dato che comunque vivo esclusivamente per i libri e noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video cheers passi